Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video di Minecraft Eternal Come al solito se ancora non l'avete fatto mi raccomando iscrivetevi e attivate la campanellina per non perdervi mai nessunissimo video E detto questo oggi andremo a fare una cosa normalissima che tutti fanno nel proprio mondo di Minecraft Ovvero provare a killare l'Ender Dragon Noi non ci siamo ancora andati effettivamente abbiamo ucciso mob stranissimi e tutto però effettivamente l'Ender Dragon ancora no Più che altro lo voglio fare per l'esperienza che ci dà ragazzi perché noi siamo un po' carenti di esperienze Intanto off camera ho trovato anche questo qua che è quello che stavo cercando Però non mi dà i libri che voglio quindi devo un attimo vedere se ora posso ad esempio scambiargli qualcosa e magari sbloccare nuovi crafting Tipo ecco qua ho tantissimi efficiencies Me lo vuoi scambiare qualcosa di buono? È un orologio il vetro ma non ci faccio nulla Guarda ti ricompro il vetro così Però ti prego dopo sbloccami qualcosa Smelting Ma non lo voglio ma non lo voglio Vabbè dai Poteva essere una farm interessante di Mending ma è da vedere Comunque ovviamente per trovare Land abbiamo bisogno di Ender Pearl che ho visto che ce ne ho 7 di qua sparse Poi da questa parte ho chiamato altre 7 Mentre nell'altro saccottino dovrei avere tutta la roba di Blaze Powder Eccoli con 14 Oh precise ragazzi Che coincidenza Comunque le ho fatte dovrei anche averne qualche pezzettino extra qua dentro forse No ok ho delle Blaze Road ma non ho più Ender Pearl Quindi dobbiamo stare molto molto attenti Oltretutto io non penso che sia difficile da affrontare Perché siamo messi stra bene ma ecco un po' di frecce 14 e poi 15 con un instant damage Vabbè dai Ci accontentiamo Direi che possiamo andare Vediamo intanto da che parte però Prima però di partire ragazzi Ho trovato il secondo draghetto Mi avete scritto nei commenti dove cavolo si trovasse E effettivamente era Nel video si vedeva che era in quel punto L'ho trovato sotto quell'albero lì E guardate qua abbiamo fatto anche il nido per i draghi Con i blocchi in aurora E poi appunto il nido fatto con il tetto di una casa che ho distrutto Che era lì l'ho proprio demolita tantissimo Mi piace mi piace Non è una cosa spettacolare Però ci può stare secondo me Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate Comunque andiamo alla ricerca del land E vediamo se si riesce a trovare Ma con questa speed Secondo me sarà facilissimo Ok dobbiamo tornare già indietro Quindi l'abbiamo superato Ci siamo ragazzi Dovrebbe essere più o meno in questo punto qua Vediamo un attimo Ok si è andato verso il basso È andato verso il basso C'è proprio nell'acqua Vabbè adesso cavolo a questa parte Ma che cavolo Oh 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 Ma è impazzito E che cavolo Non doveva andare così Non doveva andare così Guarda che ne ho uccisi tanti di quelli come te Ti conveniva andartene Te lo dico Ok Ultimo colpo E l'abbiamo distrutto Raga Perché si è messo di mezzo Cioè poteva farsi i cavoli su a questo E vabbè Pezzettini extra per noi Che devo dire Ora finalmente Possiamo andare giù senza interruzioni Oh Siamo arrivati No Non è questo Ancora Pi in giù Scherzavo E ho sbagliato piano Questo parebbe essere quello giusto Ok Perfetto Allora Da che parte si va No Che cavolo sei te Oh Oh ma cosa sono sti cosi Ragazzi ci sono dei mob strani in questo posto eh Debbiamo stare comunque un po' attenti Non si sa mai cosa potrebbe esserci Tipo il diamante è buono Tutto il resto sono schifezze Mi prendo un po' di ferro così tanto per Oh Finalmente Finalmente Ragazzi Ci stavo quasi per perdere le speranze con questa roba E non ce n'è nemmeno uno Vabbè ragazzi Io Io più sfigato di così Ma che devo dire Ma che devo dire Meno male che me ne sono parlati un bel po' Quindi tutto sommato Non è un grosso problema questo E invece si Perché ne mancano due Cavolo Cavolo Allora Io ho la portal gun Quindi in questo punto Ci posso tornare quando voglio Ma devo assolutamente Recuperare due enderpearl Certo che non potevo mai immaginarmi Trovarlo senza nemmeno Uno di questi aggegini qui Cioè Vabbè Lasciamo stare Se non ricordo male Dal twilight Ci eravamo portati qualche enderpearl dietro Però Ok Una Una E me ne manca un'altra Qua dentro da qualche parte Ci potrebbe essere No Nemmeno l'ombra Uh In questo accesso ce ne erano sette Che bello Ok Sono a posto allora Eh ragazzi Però dovevo stare più attento Mentre cercavo le cose Quindi converto questo Unisco Ed ecco i nostri ultimi due pezzi Possiamo ritornare là Eccoli qui E sbam Portale attivato Speriamo che non crashi Come sempre Perché lo fa sempre Ogni volta che vado in una dimensione nuova Crashia tutto Proviamo dai raga Incruciamo le dita Uh Perfetto Non è Non è morto tutto quanto Allora intanto Salviamo il waypoint Che in verità Ha senso salvarlo Beh non è il portale Comunque beh Mettiamo spawn Potrebbe servire E poi voliamo un pochettino Ah Guardate che bello Io ora non so se Queste cose qui mi fanno male Facendo così Porca miseria Che danno ragazzi Che danno Ok forse è meglio non farlo Andiamoci d'arco e basta Un po' mi dispiace C'è un arco con infinity Sì ok perfetto Infinity Usiamo questo Così almeno non sprechiamo le frecce Che ci potrebbero servire Certo raga Me la sento citatissima In questo modo Io veramente È indecente come cosa Le ho già rotti tutti Ah no Ne è rimasto uno piccolino qua Perfetto Ora Mettiamo via quest'arco Usiamo quello potente E proviamo a killarlo con l'arco Abbiamo pochissime frecce Quindi non penso Bastino Però si può provare Mamma mia Vediamo così Oh che dolore Vabbè Raga è nostro È nostro Assolutamente Però comunque il danno lo fa E non bisogna sottovalutarlo Ora È vero che ho anche l'armatura schifosa In questo momento Però Potente Qualche freccia ben fatta così Un pochettino di spada Ragazzi ci siamo Ci siamo quasi Perché lui è fermo E sbam L'abbiamo Killato È stato veramente molto molto facile Però ragazzi Effettivamente Avevamo della roba assurda Prendiamo tutta l'esperienza così Ok Guardate quanti livelli E poi qua c'è del Supremium Beh Quattro pezzettini Non male Non male ragazzi Considerando che Non c'è voluto nulla a killarlo Ci siamo presi quattro pezzettini Così easy Secondo me In caso dovessimo farlo responare Sarebbe una far migliore Di quella del Wither Quindi tanta tanta roba Mi piace Mi piace Non penso ci sia altro da fare Ci sono forse dei materiali particolari Qua in questa dimensione Forse sì Ma boh Non mi interessano più di tanto Cos'è quello là Ah è un meteorite Tipo No obsidian block E in che senso Ora cosa c'è qua dentro Nulla No è ancora grosso Devo scavare ancora un bel po' Che è sta roba Sono materializzati Ma non li conosco E non li posso nemmeno prendere Boh Per il momento li lascio lì Comunque torniamoci Nel nostro mondo Lezzissimo Vorrei prendere l'uovo Che facciamo Lo prendiamo Ma sì prendiamolo Se non ricordo male Basta fare una cosa Easy 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 Così Vero Perfetto Preso Andiamo a casa Tra l'altro Con questo qua Possiamo farci qualcosa Ender Dragon Death Muffler A far rumore Dell'ender Dragon Per 32 blocchi di raggio Ma perché Perché questa cosa Non ha senso Ok ho capito Non ci si fa niente Bene Ma ad esempio I Ender Crystal Com'è che si craftano In caso di volessi fallo responare Una Ghastiar Del vetro E degli occhi di Ender Va bene Mi sa che off camera Dovrò un attimo farmarli Perché appunto Non dico che vorrei Killare la raffica I Ender Dragon Però Killare ne uno extra Due extra Tre extra Ci potrebbe stare Secondo me È una cosa Abbastanza interessante Detto questo comunque Io spero che questo video Lezzissimo Vi sia piaciuto E quindi dire Ciao a tutti